Marinella Savini, medico estetico Cesena. Ho scelto Pnei4U per ampliare la mia conoscenza professionale e per dare un contributo maggiore ai miei pazienti. Ho notato che è un metodo di prevenzione e cura che è servito prima di tutto a me ed è una cosa che fa crescere, fa veramente la differenza rispetto all'utilizzo di qualsiasi tipo di terapia dalla nutrizione all'esercizio fisico all'iter terapeutico ma comunque anche nell'ambito della medicina ufficiale che spesso utilizzo può essere molto utile fare veramente la differenza perché crea un'energia maggiore nelle persone anche una fidelizzazione da parte della clientela che si rende conto immediatamente della differenza rispetto a una strategia terapeutica standard.